Il 28 maggio il Consiglio Comunale di Ciserano ha approvato il piano attuativo da cui consegue che a luglio può approvare la pubblica utilità. La pubblica utilità significa dare il via agli espropri, quindi iniziare a espropriare le case delle torri e questo significa che i proprietari delle torri verso settembre, ottobre, questi sono i tempi che si stanno dando infrastrutture lombarde, aler, il Comune di Ciserano, riceveranno delle lettere in cui gli verrà comunicato che è partita la procedura di espropri e quindi gli verrà dato un indennizzo per la loro abitazione che si stima essere in circa sui 90 euro al metro quadro, quindi si parla di dai 5 agli 8 mila euro per appartamento, una cifra ridicola che non permette di garantire neanche il diritto dell'abitare di queste persone praticamente. Quindi in questo momento i proprietari, insieme con i proprietari dell'attività commerciali, la stragrande maggioranza dei proprietari che non hanno accettato, perché ricordiamo il progetto è partito nel 2012 annunciando che avrebbe sicuramente convinto tutte le persone che abitavano qua dentro per farlo uscire dalla loro situazione in cui versavano. In realtà se andiamo a vedere le case che Aller ha acquistato, dei 50 erotti appartamenti che ha comprato, la maggior parte li ha presi all'asta. I pochi accordi bonari che ha stipulato con i proprietari riguardano proprietari che non abitano più qua e che hanno una casa da un'altra parte e quindi non gliene frega niente, oppure proprietari che avevano sofferenze con il mutuo che avevano acceso e che quindi la loro casa sarebbe finita all'asta e quindi hanno deciso di farsi cancellare il mutuo e prendere un indennizzo e andare da un'altra parte. Quindi i proprietari che abitano qua sono ancora contrari ad ogni forma di esproprio e faranno in modo di fare il più alto numero possibile di ricorsi per far sì che il progetto almeno subiscono stop o nel peggiore dei casi riescano a ricevere un indennizzo che può almeno garantire un futuro a queste persone. Politicamente la questione è che non vogliamo che la procedura di esproprio che viene attualizzata qui oggi diventi un precedente e venga utilizzata come esempio per andare a operare contro la complessità di situazioni di questo tipo. Banalmente queste persone sono le prime persone vittime della ruspa di Salvini, anche letteralmente qui queste case verranno abbattute da queste ruspe che non considerano assolutamente i diritti e le problematiche di queste persone. Si fa ruspa e si risolve tutto praticamente senza considerare le vite delle persone che vengono coinvolte da questi progetti.